Buonasera, ben trovati in diretta dagli studi di Telebari anche a Bari Cittadini in Marcia Il corteo organizzato dal Comitato per la Pace Terra di Bari è partito da Piazza Umberto e diretto alla Basilica di San Nicola La guerra in Ucraina continua a mietere vittime innocenti e la città di Bari si dimostra ancora una volta vicina alla popolazione colpita Circa 250 manifestanti hanno attraversato la città di Bari da Piazza Umberto fino ad arrivare ai piedi della Basilica di San Nicola Tante le bandiere della pace sventolate da adulti e bambini durante la marcia silenziosa Siamo pacifisti, però pensiamo che far sentire agli ucraini, non solo, però anche ai manifestanti russi Ci sono tanti giovani, tante persone che stanno manifestando in Russia Far sentire che non sono soli, che c'è una opposizione a questa guerra anche in altri paesi dell'Europa Anche a Bari, che loro conoscono rispetto ad altre città, credo che conoscono di più Bari per via di San Nicola Alla manifestazione hanno partecipato decine di associazioni, numerosi studenti, ma anche liberi cittadini che hanno deciso di dare il proprio contributo per chiedere l'organizzazione di corridoi umanitari per permettere ai profughi di trovare rifugio nei paesi europei Siamo qui per chiedere lo stop all'invasione, lo stop ai bombardamenti, all'uccisione di civili e per chiedere che non si risponda però con le armi Dobbiamo fermare questa escalation militare e incentivare la trattativa diplomatica L'Europa può farlo, ha le capacità di farlo Si arriva alla Basilica di San Nicola Per ricordare che Bari è un centro internazionale di incontro non solo religioso ma anche laico che in qualche modo è simboleggiato da quella basilica e dal grande sagrato che si trova davanti a essa Adesso ci colleghiamo con il direttore del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia in collegamento a Skype con nomi Direttore, grazie, buonasera per essere intervenuto Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori E allora restiamo in tema di accoglienza dei profughi ucraini E' stata messa in piedi una macchina importante da parte della Regione Puglia Si è riunito il primo comitato regionale per l'emergenza ucraina Tra le priorità naturalmente c'è lo screening sanitario per i rifugiati e poi i vaccini per i non immunizzati Come vi state organizzando? Sì, dal primo momento il Ministero della Salute ha diffuso una circolare che poi è stata diramata a tutte le aziende sanitarie con lo scopo di allertare le organizzazioni territoriali in occasione dell'arrivo di ucraini provenienti dal territorio di guerra Come prescritto dal Ministero della Salute le prime azioni sono rivolte alla somministrazione di un tampone per verificare se sono portatori di Covid o meno Poi ognuno di loro va scrinato per verificare se ha completato il ciclo vaccinale per sottoporre tutti al completamento del ciclo o all'inizio del ciclo Evidentemente, poiché ognuno di loro potrebbe anche avere bisogno del sistema sanitario ad ognuno, come previsto dalla legge, viene assegnato un codice poiché trattasi di straniero temporaneamente presente in territorio nazionale Con questo codice ogni cittadino straniero extraeuropeo ha diritto a prestazioni sanitarie gratuite Insomma, quale dovrebbe essere la trafila? Appena arrivati in Puglia, nel caso di specie devono rivolgersi alle autorità sanitarie locali o al sindaco o al sanitario referente del Dipartimento di Prevenzione per segnalare la presenza, per ottenere il codice STP ovviamente dal punto di vista sanitario e dal punto di vista invece della presenza sul territorio devono anche censirsi presso le questure Benissimo, direttore, un'ultima domanda e poi la saluto Qual è la copertura vaccinale dei cittadini ucraini? Gli ucraini quando arrivano in Italia normalmente segnano un 35-40% di soggetti vaccinati In Ucraina ci sono 40 milioni di cittadini e per quello che si sa sono vaccinati circa per il 35% per cui ogni 10 ucraini che arrivano dalle nostre parti circa 4 sono vaccinati quindi bisogna fare molta attenzione ai percorsi di sanità pubblica per evitare che si creino problemi sia tra coloro che arrivano sia tra coloro che ospitano gli arrivi Benissimo, grazie direttore, grazie per essere intervenuto in diretta con noi Grazie, arrivederci Arrivederci, grazie Restiamo in tema Sarà il garante regionale dei diritti dei minori Ludovico Abbaticchio ad occuparsi dell'accoglienza dei minori ucraini non accompagnati La nomina è stata fatta dal governatore Michele Emiliano Ringrazio il presidente dichiara il garante per aver istituito un gruppo ben organizzato e ben collegato con tutte le istituzioni locali al fine di renderlo più efficace e immediatamente operativo E mentre la macchina organizzativa della regione si organizza per l'accoglienza prosegue incessante anche il lavoro delle associazioni collegate direttamente con l'Ucraina ce ne parla Roberto Maggi Da Matera abbiamo fatto ieri che è partito tre camion per l'Ucraina e noi sistemiamo qua a Bari mettiamo le pedane, tutta la roba che hanno portato tutta la gente da tutta regione, da tutti i parti ognuna famiglia italiana ha dato per noi per portare in Ucraina e adesso noi sistemiamo le cose per partire lavoriamo su questo per il momento abbiamo smettere di raccogliere perché non abbiamo spazio e questo è un piccolo un piccolo, non è tutto che avete visto perché c'è da un altro locale che dobbiamo mettere qua e dopo dobbiamo di nuovo caricare sulle pedane e dopo chiamiamo le camion che viene qua e porta tutto in Ucraina Un appello ai vescovi del Mediterraneo, frontiera di pace affinché rivolgano un accorato appello a sua santità a Kirill, patriarca di Mosca e di tutte le Russie perché interceda presso il presidente Putin per far cessare la guerra in Ucraina viene lanciato dall'associazione culturale pugliese l'isola che non c'è all'appello dell'associazione hanno aderito più di 100 tra sindaci, consiglieri regionali, accademici personalità della società civile del mondo ecclesiastico, del mondo diplomatico nel manifestare pieno appoggio per tutte le iniziative che si intendono intraprendere per fermare la guerra l'associazione, scritto chiede umilmente a voi vescovi del Mediterraneo di farvi nostra voce e adesso ci colleghiamo con Italo Cinquepalmi dalla postazione social per le news dal nostro sito www.telebari.it sentiamo Buonasera Cristina è allora un'immagine toccante che resterà nel cuore di chi come vice sindaco di Acquaviva delle Fonti Franco Chimienti il consigliere comunale Beppe Di Vietri si è impegnato concretamente per aiutare i profughi che fuggono dalla guerra partiti ieri dalla Puglia dove sono arrivati al confine con la Slovenia dopo aver lasciato bene di prima necessità hanno portato in salvo tante famiglie con bambini la gioia di più piccoli esplosa in un canto liberatorio un saluto alla loro terra così tante voci bianche hanno intonato l'inno nazionale ucraino le immagini sono già arrivate al sindaco di Acquaviva Davide Carlucci che sta aspettando con ansia l'arrivo dei profughi vedere queste persone al sicuro ha sottolineato il primo cittadino nel pullman che presto le porterà da noi ci scalda il cuore certo però ci chiediamo quanti non riusciranno a salvarsi e quanti non si sono salvati in altre guerre per questo non dobbiamo mai girarci dall'altra parte conclude Carlucci quando qualcuno fugge da quel mondo scuro inventato dall'uomo per uccidere altri uomini quella bestialità che le bestie non sono neanche capaci di concepire che purtroppo non riusciamo ancora a espellere dalla natura umana bene con questo chiudiamo quindi per oggi Cristina a te buona serata grazie Italo buona serata a te e di Ucraina di aiuti umanitari ne parleremo stasera subito dopo il nostro telegiornale con il TB Talk di Telebar in studio ci sarà Alessandra Bucci con i suoi ospiti cambiamo adesso argomento e fermo il cantiere Arca Puglia in via De Fano a San Girolamo la ripulcitura tra zona ERP e Waterfront dovrà dunque attendere così come i futuri inquilini degli alloggi il servizio di Serena Russo un'operazione strategica sia per l'Arca Puglia Centrale che per il Comune di Bari era stata definita così la rigenerazione del complesso di alloggi di edilizia residenziale pubblica del quartiere San Girolamo ma il completamento dei 106 nuovi alloggi in via De Fano sono rinviati a data da destinarsi dopo la risoluzione del contratto con la ditta e il prossimo si spera imminente riappalto dei lavori la perizia propedeutica alla prosecuzione del cantiere dovrebbe essere già pronta e la speranza dei residenti è che i lavori ricomincino quanto prima la speranza è soprattutto dei futuri inquilini costretti ancora nelle vecchie case il progetto che si muove sul doppio binario della qualità progettuale e ambientale segnerà dunque l'inizio della ricocitura della zona ERP con il già riqualificato Waterfront su cui ancora campeggiano le vecchie palazzine in stato di totale degrado ma per cui il Sunia ha ottenuto la parziale riqualificazione siamo in chiusura del primo spazio breve pausa pubblicitaria poi di nuovo insieme con nuove notizie restate con noi ben trovati in diretta con il Tg di Telebari e allarme sui costi della energia nella produzione agricola questa mattina si è riunita la quarta commissione agricoltura della regione Puglia Francesco Paolicelli il presidente che auspica l'accesso ai finanziamenti plurifondo ringrazio il presidente di Lega Coop Carmelo Rollo che ci ha dato la possibilità di discutere e di mettere appunto dei punti fermi insieme all'assessore Dell'Inoci e all'assessore Pentassuglia agricoltura e sviluppo economico perché è importante appunto lavorare insieme soprattutto in agricoltura provare a dare un contributo importante per le rinnovabili in agricoltura quindi si sta discutendo dei pannelli di sopra delle stalle o in zone in disuso dove non viene coltivato nulla su questo dobbiamo lavorare proprio per abbattere i costi soprattutto per l'emmungimento dell'acqua perché per emmungere acqua servono pompe importanti di elettricità e quindi maggior costo per gli agricoltori in un momento in cui il gasolio aumenta i costi di produzione aumentano dobbiamo necessariamente intervenire c'è un bando del Mise che ci ha appunto detto l'assessore dell'Inoci che mette a disposizione un miliardo e mezzo proprio per l'efficientamento energetico per gli agricoltori una misura importante che pubblicizzeremo in questi giorni e che chiederemo a tutte le associazioni di categoria di aiutarci a far partecipare i nostri agricoltori restiamo in tema anche con l'aumento del prezzo del carburante con il diesel che sorpassa addirittura il costo della benzina sentiamo il diesel a 15 centesimi in più della benzina 2 euro 359 al litro contro 2 euro 1,99 l'aumento del prezzo dei carburanti rischia di mettere ulteriormente in ginocchio l'economia nonostante il blocco dei tir delle scorse settimane il peggioramento della situazione internazionale ha provocato un'ulteriore impennata e a farne le spese direttamente o indirittimamente sono poi i cittadini con il lavoro che faccio mi sposto parecchio e quindi ultimamente mi viene veramente difficile stare lì e utilizzare la macchina più del dovuto la uso lo stretto necessario che tipo di carburante utilizza? a benzina quanto le costa in più un pieno? adesso quasi il doppio in realtà non spostandomi del solito tragitto sicuramente sta influendo abbastanza un po' sulla vita di tutti quanti spero che le cose si possano risolvere nel migliore dei modi perché non si può andare avanti così è schizzato alle stelle da settimane anche il prezzo del metano con una significativa differenza però rispetto a benzina e gasolio qui le oscillazioni possono superare di gran lunga i pochi centesimi al litro tra un distributore e l'altro la differenza dipende dal tipo di contratto che c'è tra i vari gestori in questo distributore di Viale Europa è fermo a 1,399 ma in alcune pompe è venduto anche a 4,99 euro al chilo un pieno di metano ci pagava 9 euro massimo 10 euro adesso ne paghiamo 15 c'è già una differenza state notando le differenze tra le varie pompe di benzina dove ci sono dei posti dove così no non c'è un prezzo sul metano non c'è un prezzo uno lo fa 1,450 uno lo fa 1,6 uno lo fa 1,50 tra i vari prezzi quello che sembra aver risentito meno delle oscillazioni è il GPL che per ora si mantiene su prezzi gestibili il GPL diciamo di poco non di molto è aumentato rispetto prima però di poco più o meno quanto le viene a costare un pieno un pieno la mia macchina non è grandissima quindi un 25 euro di GPL mentre di benzina sono una sessantia ad ogni modo le oscillazioni saranno all'ordine del giorno già domani ci sarà una riduzione di circa 10 centesimi su buona parte dei carburanti nella speranza di una stabilizzazione della situazione internazionale ed è caro bollette sono tante le famiglie in difficoltà si pensa alla rateizzazione con i nostri servizi tappa pugliese per Gianluigi Paragone leader di Italexit per l'Italia accompagnato dal coordinatore regionale Mario Oconca questo pomeriggio in corso Vittorio Emanuele sentiamo crede davvero che l'Italia possa uscire dalla Unione Europea specie a seguito dei recenti avvenimenti insomma dalla pandemia alla guerra beh nella pandemia e nella guerra hanno dimostrato che l'Europa c'è o sia forte quindi mi sembra che sia quanto mai necessario poi tra l'altro qualcuno deve ancora dimostrare che l'Europa sta dando i soldi agli italiani fonti rinnovabili o nucleare il futuro energetico dell'Italia se lei potesse scegliere ma intanto potevamo anche diversificare meglio io tempo addietro avevo studiato un disegno di legge per cui si andava a premiare in bolletta chi consumava energia rinnovabile quindi ben prima della crisi tu davi la possibilità a chi consumava energia verde di pagare meno la bolletta togliendo una buona parte degli oneri di sistema questo sistema avrebbe consentito al mercato di generare una maggiore offerta di green qualcuno mi deve ancora spiegare perché è stata rifiutata quella proposta arriviamo in Puglia quale è il futuro dell'Ilva di Taranto io rimango sempre fermo nella mia tesi ormai l'Ilva di Taranto è una tra virgolette carcassa industriale non credo assolutamente nella riconversione a idrogeno credo invece che occorrano per quell'area ulteriori investimenti in termini di turismo e valorizzazione di un patrimonio che può fare a meno anzi deve fare a meno dell'Ilva il futuro dei giovani pugliesi come fa di restare sul territorio ma questo purtroppo non è soltanto un tema della Puglia è un tema che colpisce soprattutto il meridione ma che si sta estendendo ahimè troppo anche in tutta Italia parlo da genitori di due figli adolescenti che è assolutamente preoccupato quindi è una sfida che non gioco soltanto da politico ma me la ricordo sia come giornalista ma da genitore e adesso torniamo al servizio sul caro Bollette e alla difficoltà delle famiglie di pagare le quote si pensa già a rateizzazioni sentiamo caro Bollette anche i gestori di energia si adeguano dando la possibilità ai clienti di rateizzare gli importi che tante famiglie si dichiarano impossibilitate a pagare viste le cifre sorbitanti un esempio è nell'energia che dà la possibilità agli utenti di rateizzare una bolletta entro dieci giorni dalla sua scadenza per la dilazione la bolletta dell'energia elettrica è rateizzabile solo se supera almeno il 150% dell'importo medio delle fatture degli ultimi 12 mesi se è stata emessa dopo la sospensione del normale ciclo di fatturazione se è stata rispettata la periodica fatturazione e se contiene consumi che non siano mai stati precedentemente registrati per un guasto al contatore nei casi di bolletta del gas invece sarà possibile rateizzare qualora l'importo superi almeno del doppio quello della fattura più elevata emessa negli ultimi 12 mesi e in ogni caso la differenza tra le due fatture non dovrà essere legata alla variazione stagionale dei consumi e come previsto dalla legge di bilancio in caso di bolletta emessa dal 1 gennaio al 30 aprile non pagata e riferita ad una fornitura a uso domestico sarà possibile attivare un piano di rateizzazione massimo di 10 mesi con un importo della prima rata del 50% e il restante 50% suddiviso nelle rate successive e dopo lo stop dettato dalla pandemia torna a Bari alla fiera del Levante Enoli Expo sentiamo Enoli Expo sbarca a Bari l'evento che mette in mostra macchinari e tecnologie per la produzione di olio ha aperto i battenti nella fiera del Levante PNRR transizione 4.0 sono due dei temi chiave per l'agricoltura pugliese italiana gli imprenditori dovranno districarsi tra contributi e benefici fiscali per migliorare le proprie realtà Per fare l'industria 4.0 ci vogliono dei professionisti nel settore informatico ci vogliono degli imprenditori che credano in questo percorso che non è breve ma è fatto di piccoli passi e che portino i loro operatori a formarsi per entrare nel discorso 4.0 Intanto il Covid non ha fermato la vendita di macchine agricole in Puglia i dati sono incoraggianti e fanno ben sperare per il futuro Ci sono tante novità questa regione ha confermato la propria leadership nel mezzogiorno ma anche dal punto di vista nazionale per la vendita di trattori e macchine agricole nell'anno 2021 con un più 32% rispetto all'anno precedente si sono immatricolati 2.135 trattori a conferma che questo mercato è estremamente vivace e raccoglie anche tutte le possibilità di finanziamento per l'acquisto di macchinario nuovo e tornano i turisti ad Altamura nel museo diocesano matronai della cattedrale ce ne parla Eziana Di Mola Altamura è un luogo storico e culturale tutto da scoprire la cattedrale federiciana torna a splendere in questo periodo soprattutto augurandosi delle prossime belle giornate in cui i primi turisti tornano a visitare la città di Altamura fiore all'occhiello il museo diocesano matronai di Altamura inaugurato nel 2016 dal vescovo della diocesi di Altamura Gravina Coaviglia delle Fonti Monsignor Giovanni Ricchiuti che dispone di varie sezioni che raccontano della ricchezza del patrimonio storico-artistico e della città uno spazio espositivo su due livelli in cui il visitatore è libero di percorrere lo spazio che intercorre sopra le navate della chiesa questi sono i matronai della cattedrale vere e proprie gallerie che corrono lungo la parte superiore della navate laterali della chiesa dell'assunta un tempo luogo di accoglienza delle matrone con i propri figli il museo diocesano si arricchisce continuamente presenta per tutto l'anno iniziative rivolte agli appassionati di storia e di cultura e alle famiglie qualche giorno fa in occasione della festa della donna ha aperto le porte gratuitamente alle donne generando un'opportunità per ammirare i reperti storici della città del resto è meta appassionata di tutti coloro che alla cattedrale vogliono affiancare un percorso di bellezza storico-cultural che fa di Altamura una città d'arte noi siamo in chiusura vi lascio al nostro TV Talk grazie per averci seguito buon proseguimento di serata amici trevi meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì che vedrà pressione atmosferica ancora relativamente alta sul Mediterraneo e sull'Italia i sistemi nuvolosi atlantici cercano di avvicinarsi al nostro paese ma sono frenati da quest'alta pressione che si sta consolidando sull'Europa centro-orientale quindi come nuvolistà si vediamo arrivare qualche nuvola da ovest ma poi nuvole che si sfaltano entrando in questo campo anticiclonico quindi più che qualche velatura qualche nuvola quella non vedremo infatti anche come precipitazioni nulla da segnalare per ora piogge e nevicate restano più a ovest della nostra penisola e quindi in definitiva ci attendo un venerdì con sì qualche nuvola di passaggio però in realtà si tratta più che altro di velature nuvole alte non portano precipitazioni magari a ridosso delle zone montuose del nord ovest quattro fiocchetti di neve temperature in aumento leggero per quanto riguarda i valori diurni però farà sempre piuttosto freddo al primo mattino per tutti i tagli comunque sulle vostre località scaricate e consultate l'app gratuita di Trebi Meteo